Qua la vita a Paperopoli è un gran ballo, corri voli in aeroplano, ma che sballo, storie di paperi, ma che be' paperi. DuckDales, ogni giorno c'è una nuova storia, misteriosa, paperosa. DuckDales, fai attenzione, c'è qualcuno alle spalle che ti spia, non aver paura, sono DuckDales, personaggi strabilianti. DuckDales, grandi storie divertenti. DuckDales, le favole più belle sono DuckDales.